I salmi non invitano soltanto gli esseri umani a lodare Dio, ma anche gli alberi, le montagne, le isole. Essi dicono l'albero è un pensiero di Dio, rispecchia la sua intenzione. Se è quello che deve essere, cioè un albero, allora loda Dio e indica il suo maestro creatore. Le stelle lodano Dio risplendendo, le talpe lodano Dio scavando nella terra, perché è quello che lui voleva da loro, così li ha pensati. Amen